Sto andando in live? Un cordiale saluto a tutti gli amici di F1 in generale e appassionati di Formula 1, benvenuti a una nuova puntata di F1 in podcast live. Presento subito l'ospite di oggi, Matteo Quattrocchi. Ciao Matteo e benvenuto. Ciao Giuseppe, oggi ci facciamo una bella chiacchierata a quattro occhi, come si dice. Eh sì, è stata una gara molto molto particolare. Old school? Sì, sì, una gara... Possiamo dire così? Perché siamo tornati a vivere sul circuito di Imola, a mio avviso un gran premio come quello dei vecchi tempi, cioè dove contava il millesimo, dove contava il record sul giro per avvicinarti al pilota che ti precede, per poter compiere il sorpasso, che come dice qualcuno è la scelaggina sulla torta in questa Formula 1. Deve essere la scelaggina sulla torta in questa Formula 1. Bene, il Gran Premio... Ci sono stati livelli, eh? Sì, 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 sì. Anche all'esterno. All'esterno, parecchi sorpassi interessanti. Ma andiamo subito a guardare l'ordine d'arrivo di questo gran premio dell'Emilia Romagna. Andiamo a vedere subito quella grafica. Vince Hamilton, doppietta Mercedes seguito da Bottas, la scuteria tedesca che, ecco, stampa un nuovo record. Settimo titolo consecutivo costruttori. E ne parleremo anche di questo. Ne parleremo abbastanza più avanti. Sarà uno dei temi chiave di questa puntata. Terza posizione per Dania Ricciardo con la Renault. Quarto... Ancora podio. Ancora podio e tanto di cappello. Quarto, Dani Kiviat, la scuderia di casa, la Fatauri, che agguanta un'ottima posizione. Quinto, Leclerc con la Ferrari. Diciamo, una gara che forse ci si aspettava un po' più, eh? Comunque aggressiva, magari. Guardando anche quello che è accaduto a Portimao. Poi sesto, Perez, il messicano della Racing Point. Settimo, Sainz, seguito da Norris, il compagno di squadra. E poi, lui di oddite, Kimi Raikkonen, nono, decimo, Antonio Giovinazzi. Quindi, le due Alfa Romeo Racing in zona... Nelle prime dieci posizioni. Poi abbiamo la Tifi con la Williams, Sebastian Vettel, sfortunato. Mi viene da dire perché ha avuto un problema al pitstop, al boxe. E poi parleremo anche del suo team radio con la squadra. Stroll, Grosjean, Albon e poi la sfizia dei ritirati. Da Russell, Verstappen, Magnussen, Ocon, Gasly. Quindi, un gran premio che a tratti, secondo me, è stato entusiasmante. Sì, perché, secondo me, come pista, questa è, essendo appunto stata rimessa nuova anche per ragioni di sicurezza, nel 2006, dopo il 2006, ma rimane sempre un circuito vecchia scuola. E i circuiti vecchia scuola non perdonano. Quindi, i contatti si verificano e i detriti si accumulano. E infatti, tanti, esatto, infatti, tanti anche dei principali eventi che hanno catalizzato questa gara sono stati appunto causati dai vari detriti. Vedi il problema al fondo di Bottas, vedi il problema al fondo di Bottas causato da il badgeboard laterale e destro, se non sbaglio, della macchina di Vettel, e vedi la foratura di Verstappen, che in seconda posizione, dopo una gara davvero gestita benissimo, e errori da parte appunto di Bottas, anche per problemi appunto di tenuta della sua vettura, che era limitata nell'effetto suolo appunto per il problema al fondo, era riuscita a sopravvanzarlo, e poi, di incanto, sul dritto, quindi proprio sembrava apparentemente dalle prime registrazioni in modo inspiegabile, boom, esplosione della posteriore destra. E poi, gara ferma finita nella ghiaia. Davvero, ne sono successe tante, tante. Poi, ancora tante incognite ci sono. Ad esempio, Gasly si è fermato per un grave problema, e quindi, addirittura nel suo team radio, gli dicevano, ferma subito la macchina, abbiamo un problema irreparabile al momento, quindi davvero come se fosse una questione di vita o di morte, doveva fermare il prima possibile la macchina, portarla subito ai box, e poi sono andati a indagare, e sembrava, mi dicevi anche tu, Tommaso, prima, forse una questione dei freni, come vette la Monza. Da alcune indiscrezioni. E invece, ancora anche, grande incognita, invece, il motivo per cui Ocona abbia dovuto fermare la sua monoposto a bordo pista, e con polemica che è successa dopo, e con anche qualche partenità che tireremo fuori, con le virtual safety car che è stata data momentaneamente e poi subito tolta, che, mi hai fatto notare anche tu, sembrava un po' anomala, sia per il tempo che per la durata. Russell, invece, si gira dietro la safety car dopo che il gruppo si era ricompattato, prima di sdoppiarsi, dopo il ritiro di Ocon, e questi, quindi, gli eventi principali della gara. Oltre a una ripartenza, appunto, come dicevi tu, che non ha giovato alla Ferrari, che non avendo effettuato una ulteriore sosta, infatti, vediamo anche, appunto, dalla grafica, è rimasta, per quanto riguarda le mescole, sul compound più duro alla ripartenza, si è fatta, appunto, sopravvanzare da Kvyat, che aveva montato una mescola più performante, e non ha mai avuto neanche il passo per impensierire, in fase di ripartenza, appunto, Ricciardo, che si è preso agevolmente la terza piazza, seconda, terza piazza della stagione per lui, e quindi, rischio nuovo tatuaggio per Abide Bull? Cosa ne pensi? Adesso vendetta di Abide Bull su Ricciardo, adesso te lo fai tu un tatuaggio, e lo scelgo io? Beh, forse sarebbe anche accettabile per lui. No, vabbè, sì, questo sicuramente, ma credo che adesso il morale sia molto alto, il renovo, perché hanno, forse, intravverso la giusta strada per gli sviluppi, e questo fa sperare per il 2021, e sorride, a mio avviso, Fernando Alonso, che era, tra l'altro, presente all'interno del boxe Renault, perché con la partenza di Ricciardo, fine stagione, si troverà per le mani una macchina, un mezzo, a mio avviso, competitivo. Quindi, in questo momento, nulla può farci pensare che Renault non possa essere competitiva al prossimo anno. Bisogna vedere più per il futuro. Secondo me, l'avere incognita è il futuro, perché tante vittorie, comunque la solidità di una squadra, la vedi anche, tra i virgolette, da i team affiliati, perché la Formula 1 ormai gira molto anche sui team satelliti. È una realtà ormai considerevole della Formula 1. E il fatto magari di non avere team satelliti potrebbe, per il futuro, essere un freno? Cosa ne pensi, secondo te? Secondo me, a livello anche economico, serve avere delle entrate, anche dalla vendita, appunto, di motori, per poter spingere ancora di più sullo sviluppo sia della monoposto che della Power Unit stessa. Bisognerà vedere. Secondo te cosa ne pensi? Secondo me potrebbe esserci un rischio McLaren 2 per Alonso da questo punto di vista. Però, mai dire mai. Tu cosa ne pensi? Io la posso buttare lì. Io credo che il nostro caro Fernando Alonso, e aggiungo a lui anche Sebastian Vettel, stiano aspettando uno scenario che oggi potrebbe essere quasi un assurdo, no? Io credo che i due stiano temporeggiando per prendersi un sedile importante. Anche perché... Nella serie vanno con le pinze vedendo la fine che ad oggi ha fatto Carlos Sainz. Firma subito e poi si ritrova una vettura che dici ma cosa? Ma io, guarda, credo che Vettel sia rimasto in Formula 1 e quindi abbia firmato con l'Aston Martin perché sa di avere un mezzo che può garantirgli una certa solidità dal punto di vista delle prestazioni. Perché se avremmo che Aston Martin è nell'orbita Mercedes, tra l'altro in ultimi giorni è stata rafforzata, no? La posizione di Mercedes per il gruppo Aston Martin, per il market di Aston Martin quindi Mercedes è sempre più presente. Ma, se già non sbaglio, anche Toto Wolff aveva già si vociferava delle azioni Aston Martin però lui è sempre frenato un po' dicendo può essere non è mai andato nello specifico nel tema però si vociferava che già all'epoca lui avesse comprato un buon pacchetto azionario per gli amanti dell'economia e della finanza. Poi, e quindi Vettel in qualche modo ruota in orbita Mercedes, no? Se vogliamo. Alonso che va a venù e quindi fa di tutto per rientrare rientrare nel Circus io credo che tutto ruota intorno alla figura di Hamilton tra l'altro Hamilton lanciamo quest'ultima ora lasciata proprio che Hamilton ha detto che non è sicuro di rinnovare con la Mercedes mi piacerebbe essere qui il prossimo anno ma non c'è alcuna garanzia di questo c'è molto che mi eccita fuori da questo mondo quindi il tempo lo dirà sono qui da molto tempo posso sicuramente capire di diciamo voler limitare un po' indietro ma ci sono altre situazioni con la famiglia che dentro di me è molto forte ci sono molte cose che mi rimangono in mente quindi ecco io penso che Hamilton nonostante il fatto che sta sicuramente conversando con Mercedes in particolare con Wolf credo che probabilmente lo vedremo l'anno prossimo ma non so se lo vedremo nel 2022 e poi se lui va via dopo aver conquistato e messo in cassaforte l'ottavo titolo mondiale che lo porterebbe a sopravvanzare l'euro di Schumacher io credo che Vettel o Alonso faranno il pensiero di prendere il sedile di Hamilton se Hamilton decide di andare via di lasciare il Circus al termine del 2021 se rinnova per l'anno prossimo e che fa Mercedes non prende in considerazione di prendere un Alonso o un Vettel in squadra beh ad oggi loro hanno Russell che è un ottimo pilota e loro ad oggi era stato portato in Formula 1 come il futuro della Mercedes ovviamente comunque Russell ha vinto in Formula 2 il campionato quindi dei giovani che erano saliti dalla Formula 2 alla Formula 1 sulla carta era quello che aveva vinto il campionato quindi di base doveva essere ripartiamo da questo sulla carta il pilota più forte dei rookie dell'anno quindi la butto lì è chiaro che a distanza diciamo di diversi mesi è difficile fare una previsione però io credo che Mercedes non si lascerà sfuggire anche perché hanno rinnovato il patto della Concordia quindi rimarranno in Formula 1 salvo una decisione di Calenius di andare via all'improvviso credo che loro comunque rimarranno e vorranno avere a tutti i costi un pilota forte l'unico dubbio che magari può avere è quello su Alonso perché Alonso comunque ci avrà 42 anni tra due anni però bisogna vedere come si comporta in pista perché ad oggi tra un Alonso incognita e un Vettel che però lo vediamo che fatica che fatica che fatica non saprei io scegliere di cuore è difficile per entrambi perché pilota Ferrari da una parte ex pilota già da un in Ferrari dall'altra non sai da che parte girarti bisogna guardare i numeri mentre per quanto riguarda l'O Hamilton secondo me ti volevo dire una volta vedevamo parlando appunto di circuiti vecchi a scuola i piloti che correvano su questi circuiti erano quasi delle rock star all'epoca infatti mentre al giorno d'oggi basta guardare anche altri campionati come semplicemente l'NBA personalità come LeBron James sono quasi più delle icone imprenditoriali e infatti gli stipendi che ci sono in NBA sono alti ma ci sono giocatori che non sono paragonabilmente assimilabili a campioni come LeBron James appunto che prendono stipendi non molto distanti LeBron se non sbaglio prende qualcosa come 36 milioni che tu dici ok 36 milioni di dollari è una cifra considerevole ma altri volti noti ne prendono 22 23 24 quindi non è che c'è questa enorme differenza come magari tra un Leclerc che sei sotto i 10 milioni ed è un talento e un Hamilton che ne prende più di 50 quindi secondo me un po' fatto discutere anche il fatto che vogliano limitare il budget cap anche dal punto di vista degli stipendi dei piloti a 30 milioni e si vuoi cifra che Hamilton stesse almeno cercando di dire no facciamo una via di mezzo se uno ha 50 voi volete 30 veniamoci incontro a 40 però però non saprei cioè non lo vedo come uno così morbosamente attaccato al denaro che lo spinge quasi più a dire no io rifiuto la possibilità come dicevi tu quest'anno mi vinco il settimo titolo non firmo e non mi interessa di arrivare quasi più all'ottavo titolo per una questione economica perché lui come dicevamo in precedenza ha una mentalità vincente e non penso che l'entrare ancora più nella storia valga più di 20 milioni persi in un anno che ripetiamo per queste persone sono una minore percentuale stipendio netto che prendono dal loro come si può dire core business quindi in questo caso per Hamilton la formula 1 per Lebron il fatto di essere uno dei cessisti migliori della lega americana è una minore parte delle loro entrate con tutte le sponsorizzazioni che hanno e gli investimenti che possono fare perché ripetiamo sono quasi più investitori dal punto di vista imprenditoriale quindi vedi ad esempio le sponsorizzazioni con i brand di moda con i marchi sportivi ormai il ruolo del pilota di Formula 1 è quasi più proprio di un'icona a 360 gradi per creare un mercato attorno a quella persona di cui lui è il portavoce di se stesso quindi è vero che è una questione importante a livello del giorno d'oggi dell'età in cui viviamo ma non penso neanche come dicevi tu che possa essere la causa principale per cui lui debba dire no non mi interessa più correre perché gli stipendi non sono più congrui può darsi che voglia dedicarsi direttamente solo ai temi sociali no vedi la lotta che sta potrebbe essere potrebbe essere e cosa ne pensi adesso te la butto lì e magari provare a sfidare Alonso quindi alla tripla corona lo vedi uno Hamilton che può puntare a quello quindi le man e aggiungere indicare io non te lo vedo sai perché 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 andare in Indy e quindi non c'è la la Indianapolis se non la 500.000 oppure andare a Le Mans per lui non tanto per Le Mans perché Le Mans sappiamo che ormai beh ci saranno degli stravorgimenti perché ad esempio Toyota adesso ha messo da parte un'era di vetture e dovrà portarne un'altra generazione però voglio dire il livello di competizione è molto minore rispetto alla in Indy ci sono piloti che corrono da anni e quindi il livello credo che sia un po' più alto se mettiamo le due competizioni quindi per Hamilton sarebbe un rischio perché potrebbe fallire e quindi non portare a casa il successo e rovinerebbe la sua immagine da pilota con il record vincente con il record di numero di pole position con il record anche di mondiali perché alla fine ragazzi parliamoci chiaro l'anno prossimo la Lewis Hamilton molto probabilmente salvo degli stravolgimenti dell'ultimo minuto a questo punto veramente Hamilton diciamo conquista l'ottavo titolo ma a proposito di Hamilton c'è una domanda di Francesco che dice non credo che Hamilton punti alla tripla corona o all'indicata infatti è d'accordo con me grazie Francesco per essere d'accordo con me ma sarebbe interessante vedere Dixon contro Hamilton eh sì sarebbe interessante sì beh certo bisognerebbe vedere però ovviamente anche lì su che vettura su che vettura perché dipende anche lì perché all'ultimo è andato in India poi abbiamo visto cosa è accaduto mai un team all'altizia che gli consentiva di poter vincerla un'altra agonia anche quest'anno non si è ritirato ma ha faticato ha faticato ma adesso come dicevi tu parlando appunto di un pilota vincente che senza dubbio ha avuto la fortuna da questo punto di vista di trovarsi nella squadra giusta al momento giusto tant'è che mi ricordo di un'intervista quando aveva dichiarato ormai anni fa molti diversi anni fa di aver firmato con Mercedes lo guardavano quasi straniati i giornalisti della serie ma veramente cioè ne sei convinto e poi si è rivelata la scelta vincente perché Mercedes adesso con un'altra grafica che abbiamo preparato ha fatto il salto ancora di qualità e oggi si è portato a casa il settimo mondiale costruttori ecco è arrivata proprio adesso la grafica scavalcando ancora una volta la Ferrari quindi altra motivazione a continuare ad andare forte anche per il pilota inglese si si infatti questo credo che sia è il dominio in assoluto più grande che la Formula 1 abbia mai conosciuto in questi 70 anni di Formula 1 in termini di Eresi senza dubbi in termini di Eresi anche al 2006 torniamo al Gran Premio di San Marino tu al Gran Premio di San Marino 2006 potevi mai immaginare che dopo 14 anni Hamilton poteva con la Mercedes e la Mercedes poteva superare la Ferrari e quindi arrivare ai 7 titoli esistono per questo i cambi di regolamento e le ere per rimiscolare un po' le carte perché se no voglio allacciarmi ecco una dichiarazione di Stefano Domenicali ieri sera è stata a Rai Sport Domenicali che come sappiamo tutto il nuovo CEO della Formula 1 diceva dobbiamo sforzarci di di far non di favoreggiare un team ma di far sì che questa Formula 1 possa essere più avvincente e quindi voglio leggervi proprio la dichiarazione di cui abbiamo anche pubblicato un articolo nelle scorse ore lui diceva questa Formula 1 in generale sì 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 sul nostro sito è chiaro che in Ferrari stanno vivendo una situazione molto difficile molto particolare ma faremo di tutto per rendere questa Formula 1 più avvincente e quindi magari riportandola a Ferrari dove deve essere questo non è che ci deve far capire che ci devono essere dei favoritismi però io credo che la Formula 1 l'intenzione è chiara nel rimescolare le carte l'idea è portare più spettacolo perché come MotoGP le prestazioni sono nell'ottica ovviamente anche lì con team più forti o meno forti sono molto più vicine probabilmente tra i vari competitors e di conseguenza anche lo spettacolo è maggiore sì sì infatti è bere gare più avvincenti e evitare che ci siano domini troppo prolungati perché questo stanca ma anche così a man bassa perché è una costante il lock out in qualifica è una ciliegina sulla torta ormai fissa e ancora di più se parliamo della gara perché anche con fondi danneggiati queste vetture vanno e non c'è modo di fermarle poi la sfortuna e la fortuna sono elementi che fanno parte di qualsiasi aspetto della vita sia di un pilota che di una persona normale però fortuna o sfortuna non puoi vincere basandoti solo su quella sette titoli costruttori uno dietro l'altro e praticamente ormai c'è solo l'incognita se si vuole chiamarla così su chi tra i due in Mercedes adesso si porti a casa il titolo costruttori anche se sappiamo tutti già da che parte fortemente pende l'ago della bilancia quindi è un sette sette pronto da ufficializzare però determina anche un calo di spettatori perché la formula 1 dal punto di vista proprio televisivo dello share con un calo trascendentale negli ultimi anni quest'anno ha maggior ragione dove si ci sono delle bellissime piste ecco come quella di oggi Immola che a tutti ci ci entusiasmano ci fa battere il cuore anche perché poi la vista storica bellissima però tolto lo scenario dei circuiti storici ma alla fine il pubblico che non è appassionato come noi che non è potrebbe aver già finito di guardare ha detto i giochi sono fatti è finito è lo stesso campionato si perde proprio il gusto di seguire la Forlone in questo modo ecco vedi quello che accade in MotoGP Marquez rimane fuori a caso dell'incidente però è più interessante cioè io credo che in MotoGP arriverà all'ultima gara che non si saprà ancora chi possa agguantare il titolo mondiale detto questo tu prima parlavi di fortuna fortuna di un po' allora io oggi visto che parlavamo anche di Hamilton volevo analizzare una una uno spezzone di gara l'uscita della virtual safety car che da un po' non vedavamo allora c'è stata anche una polemica a riguardo incidente in pista esce la virtual safety car stiamo parlando del fermo di Ocon a bordo pista che molto leggendamente lascia proprio la vettura la sua Renault nel punto in cui ci sono i commissari quindi per agevolare il lavoro dei commissari a bordo pista nel più modo nel modo più agevole possibile appunto per favorire le attività certo ma dopo ben due giri quasi due giri viene dichiarata la virtual safety car con due giri di incognita con i piloti che continuano a girare e dovevano capire il da farsi Hamilton che non aveva ancora cambiato le gomme e che stava tirando come un forzennato per certo Bottas che era in difficoltà con il fondo braccato poi dall'alto da Verstappen Hamilton quindi rientra in box e mentre anche sotto strategia appunto con Bono sentivamo proprio che stiamo valutando rimani fuori lì continuava a dire esatto Hamilton entra in box cambia le gomme esce mentre diciamo sta per uscire dalla corsetta del box dalla pit lane viene tolta la virtual safety car quindi Bottas chiaramente non riesce a sovraavanzarlo ora non possiamo avere un come dire essere sicuri di 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 quello che dei fatti insomma accaduti le circostanze però se è stata una coincidenza oppure no certo è come dicevi tu ancora una volta abbiano voluto favorire leader ci sta se a mio avviso che i commissari non rovinano la gara di chi è in testa ci può stare ma è anche vero che una virtual safety car è durata pochi secondi ma 17 secondi il tempo giusto di 25 secondi il tempo di un pit stop e quindi io mi dico e mi domando cioè la macchina di Ocon vuol dire che era già in sicurezza era già stata messa in sicurezza e quindi quella virtual era praticamente inutile della serie perché non hai messo la safety car subito a questo punto o allora lasciavi tutto correre così com'è quella virtual ci ha negato che forse la battaglia un po' più ravvicinata da Bottas e Hamilton poteva esserci anche se Bottas aveva il fondo danneggiato dal defrito rapporto sulla pista la paratia dell'altone anteriore di Sebastian Fett sì però a volte pare tanto che ci siano delle coincidenze che vadano troppo a favore di Hamilton e per questo volevo chiederti proprio il tuo parere ma allora ti direi potrebbe essere è strana come cosa il fatto che sia durata davvero così poco però non credo neanche che siano andati a guardare proprio in quel momento quando è che avrebbe potuto rientrare Hamilton oppure no potrebbe essere una grande coincidenza come dici tu sicuramente si cerca di non stravolgere la gara di un leader certo se Hamilton ha guidato bene è riuscito a portarsi in prima posizione e a gestire bene la gara sarebbe davvero un colpo basso voler a tutti i costi cercare il più possibile l'escamotage per farlo andare nelle retrovie e quindi studiarsela a tavolino come di controparte mi sembrerebbe troppo assurdo l'idea che abbiano aspettato due giri per vedere se lui voleva rimanere fuori ascoltare magari gli ulteriori team radio e sentire cosa avevano in mente e poi proprio all'ultimo mettere mentre lui stava per entrare la virtual fargliela durare tutto il tempo della sua sosta ai box e mentre usciva toglierla non credo non credo certo è che però più che il fato può essere una questione di fato che ancora una volta come ha dimostrato più volte non è solo talentuoso e non siamo qui a mettere in dubbio il talento di Lewis Hamilton ma è anche fortunato e la fortuna come dicevamo prima serve in certe circostanze non è l'elemento su cui basi tutto il tuo lavoro perché se no ripetiamo non vinci titoli mondiali e titoli costruttori solo su quella però la fortuna come si suol dire sembra sempre girare dalla parte dei più forti perché forse sono anche quelli che riescono a sfruttarla al meglio in ogni caso però fortuna non sfortuna il ritiro comunque successivo comunque c'è stato esatto di Verstappen ha come dire riequilibrato il tutto quindi ripartenza da fermo e lì l'unico forse rimpianto è il fondo danneggiato che è lì che ha davvero compromesso le possibilità di Bottas Bottas di nuovo una pole position una bella pole position tra l'altro Hamilton era molto deluso molto dimorato perché i 97 millesimi pesavano in un poco ma lui voleva a tutti i costi fare questa pole in un circuito storico nel circuito dove Senna aveva perso la vita lui è molto legato anche agli elementi storici della Formula 1 sembra un altro Hamilton insomma quando è sì sì è vero Bottas ancora una volta ecco apriamo il capitolo Bottas è costretto ad arrendersi contro un Lewis Hamilton che una volta ma già da prima ma una volta essere uscito dai box e quindi aver montato le gomme più fresche ha messo giù dei record su record dei giri record incredibili ed è riuscito a portare il distacco quasi a 15 secondi esatto è vero che Bottas aveva dei problemi al fondo però torniamo al discorso all'ora di settimana scorsa che ne ha dati 25 a pareta di vettura sì quindi voglio dire lì siamo di fronte dobbiamo Hamilton è grandissimo più senza senza dubbio non la dobbiettare esatto e poi proprio sul capitolo Verstappen dove è superato un gran sopporto molto sfortunato forse ma è lì che ha terminato la sua gara e purtroppo purtroppo diciamo ha lasciato la sua vettura a bordo pista Verstappen che ci prova sempre ecco questo è proprio incomiabile a mio avviso ci prova quando nei momenti butta il cuore oltre l'ostacolo sa che è un mezzo inferiore però lui un po' come Leclerc riesce davvero a dare il massimo a tirar fuori il massimo da una vettura e forse ne trova anche di più cioè le fa fare quel salto di qualità che solo un pilota così talentuoso è in grado di poter fare ed è quello che porta a volte anche squadre a non avere la vettura più performante in pista poi a ottenere grandi risultati Verstappen qui davvero sfortunato perché senza colpa per l'evento appunto sfortunato che gli è capitato e poi ovviamente altro problema anche con Albon che sotto pressione invece non riesce davvero a tenere la vettura e si è girato anche lì in trazione in uscita di curva se non sbaglio dopo il sorpasso nelle fasi finali della gara dopo la ripartenza da safety car dopo l'attacco da parte di Perez se non sbaglio quindi da una parte abbiamo un ragazzo davvero talentuoso che riesce davvero a far fare il salto di qualità quasi in modo inaspettato e a poter pressare forte vetture che fino all'inizio gara comunque a inizio stagione sembravano inarrivabili ma sul finale fa vedere che comunque lui c'è sempre e ci prova sempre è verissimo è vero e lo vedevamo anche per quanto riguarda ad esempio i valori relativi alle velocità di punta perché nonostante ancora una volta la Red Bull non sia una vettura in grado di sprigionare adesso appena viene caricata la grafica vedrete anche voi che ci ascoltate i valori non è solo un un pilota che va forte perché il motore Honda è sì ad oggi la seconda la seconda power unit in pista però non sempre fa vedere dei valori di velocità di punta elevatissimi e il problema è che anzi il punto di il problema è proprio questo il punto invece ecco a vantaggio di Verstappen che invece riesce sempre a far andare la sua vettura al massimo delle sue possibilità e di conseguenza è riscomparsa la grafica l'avevamo vista per un istante poi è andata via adesso dovrebbe riuscire ad arrivare di nuovo il bello della diretta temporeggiamo e comunque Verstappen riesce davvero a dare sempre il massimo dalla sua monoposto e molte volte è capitato di vedere anche nelle analisi che vedevo che è Albon ad avere i valori di velocità massima ovviamente parlando in casa Red Bull più elevati mentre poi per quanto riguarda invece il pilota olandese è invece lui quello che concretizza sempre meglio il giro in pista quindi anche questo è un indizio per far capire quanto poi effettivamente la potenza nuda e cruda del motore serva perché bisogna anche saperla gestire e non sempre avere valori elevati significa andare più forte oggi il più veloce alla speed trap è stato Sebastian Vettel con 304,3 km orari vedevamo appunto che in casa Red Bull è Alexander Albon che è stato il più forte e il più veloce e non molto più lento del pilota Mercedes per eccellenza in questo caso Valtteri Bottas di conseguenza mi viene proprio da pensare che le vetture al giorno d'oggi quasi più che per una questione di potenza nuda e cruda del motore debbano davvero mettere insieme tutto e di conseguenza il fatto di sfruttare bene le scie dell'avere un pilota che è c'è sempre ci prova sempre non alza mai il piede e non si arrende mai anche a livello morale è quello che fa la differenza e lo vediamo appunto anche da questi valori vediamo un Sebastian Vettel che è quasi rassegnato però inspiegabilmente la speed trap è quello che andava più forte come è possibile le scie sapevamo che sarebbero state fondamentali e come i valori non sono particolarmente elevati siamo abituati a cifre ben più elevate di 304 km orari in velocità massima però il punto è proprio questo che non è tutto la potenza del motore bisogna davvero creare una vettura completa sotto ogni punto di vista e Mercedes e Red Bull ovviamente anche Ferrari negli ultimi anni l'ha sempre fatto quest'anno è stato il grosso problema della Ferrari di aver portato una vettura che come erogazione della potenza non ne ha e poi è davvero difficile da guidare vedevo che il grande problema che ha Sebastian Vett nel suo stile di guida ed è quello che lo porta poi di fatto a non poter concretizzare velocità anche in scia in un passo gara migliore questo che non riesce a far tramutare il primo aspetto nel secondo è il fatto che il suo stile di guida non si configura bene con le peculiarità della monoposto mentre Leclerc riesce meglio in ingresso curva a impostare il ratio di sterzata e a dosare meglio il gas in ogni fase e quindi portare la vettura ad avere un'imbardata giusta e controllata una volta inserita in curva Sebastian Vett invece avendo problemi con questa vettura troppo forse aggressiva nell'erogazione di quella poca potenza che ha soffre sempre di perdita di trazione ed ecco che finisce per sottosterzare quindi perdere tempo mentre cerca di riportare sotto controllo la sua monoposto finisce sempre lungo quindi in uscita di curva ed ecco le continue forti e molto visibili correzioni ora ci dicono ancora nella chat Vettel ormai secondo pilota beh direi che in Ferrari sì esatto Daniele ci chiede Vettel ormai secondo pilota direi sì in Ferrari in Aston Martin bisogna vedere bisogna vedere perché comunque lui sa guidare bisogna vedere se la vettura si configura bene con le sue caratteristiche di guida sì sì c'è da dire che però Vettel oggi riusciva ad essere anche più veloce di Leclerc ed essere sui tempi di quelli davanti dei primi tre insieme a Raikkonen a un certo punto della gara era molto competitivo quindi ciò dimostra e su questo voglio anche un parere tuo che gli aggiornamenti tecnici portati dalla Ferrari e quindi anche ulteriori aggiornamenti rispetto al Portogallo pare che stiano funzionando anche se rispetto al Portogallo la Ferrari abbia fatto un piccolo passo indietro ora volevo proprio rispetto di te è una è una pista molto tecnica Imola Imola è una pista molto tecnica ecco è arrivata anche infatti una domanda che chiedono perché hanno messo la speed trap proprio alla ravizza scusa rivazza questa è una bella domanda me la sono chiesta anch'io perché di solito si mettono sempre in fondo ai rettifili con il più alto potenziale in termini di sci e di DRS sfruttabile quindi ci si aspettava ovviamente sul rettifilo principale e poi anche appunto l'unica zona DRS secondo me l'hanno posizionata lì perché in scia soprattutto a Imola il primo rettifilo annulla un po' il fattore mettiamola così speed trap perché la scia che si può prendere è talmente elevata che si arriverebbe ad avere una un paragone analogo con Monza potenzialmente e magari qua l'hanno voluta mettere per vedere anche in in un tratto di più bassa accelerazione quanto le vetture riescano davvero quasi in coppia ad avere tanta velocità subito e chi magari riesce quindi a sfruttare già bene in questo caso a livello di setup la scia in questi settori perché qua siamo praticamente nel mezzo del terzo settore dove hanno posizionato la speed trap secondo me è anche per quello per vedere quanto una vettura riesce già bene a preparare il sorpasso in questa fase quindi a sfruttare bene la scia ed ecco quindi qua mi ricollego a quello che dicevi tu Giuseppe che Vettel a tratti aveva un ottimo passo e la dimostrazione è anche questo perché riusciva probabilmente a sfruttare meglio la scia anche in punti dove non è scontato che sia così facile sfruttarla e la speed trap appunto posta alla rivazza sta secondo me a significare questo quindi che in scia sul rettifilo principale i giochi si fanno facili ma se sei stato bravo già a portarti a un buon punto di studio del tuo avversario davanti a te in altri punti del settore e ad incollarti già bene a lui molto prima secondo me è questo un potenziale ragionamento che avranno fatto e anche quindi dare pregio al setup vincente ma a proposito di scia visto che hanno anticipato la linea del traguardo molto molto in avanti rispetto al 2006 ma anche rispetto cioè non è stata un cambio della ecco fatto dopo il 2007 dopo i lavori che hanno riportato all'ammodellamento l'hanno fatto adesso proprio e tu proprio di questa cosa che tu parlavi prima secondo me proprio il gioco scia per creare più bagarre tra le vetture alla prima curva e non far sì che loro potessero in qualche modo evitare di darsi battaglia perché parliamoci chiaro la linea del traguardo era molto molto in avanti pochi metri distanziavano la linea del traguardo quindi la griglia di partenza dalla prima curva quindi secondo me sono venuto un po' incontro a quello che era diciamo lo spettacolo in questo senso secondo me sì anche perché in un certo senso porre una speed trap in fondo a un rettifilo dove in questo caso hai molte te perché la differenza è che qua arriveresti in curva 1 a staccare fortissimo ma la pista non è con un layout particolarmente semplice a livello aerodinamico come Monza e quindi lì ti serve per capire quanto la tua vettura può spingere forte in ottica di altri tratti di alta velocità sul circuito qua abbiamo un tratto di altissima velocità e poi un resto della pista molto tecnico e allora una speed trap posta alla rivazza può dare un feedback ulteriore dato che già il tempo di lavoro era basso perché si era limitato solo al sabato mattina su quanto il setup potesse essere ottimo per avere un compromesso sia in fase di ripartenza da curve medio-lente o comunque in fase di accelerazione e poi in tratti di alta velocità quindi una vettura che riusciva bene ad arrivare lì in alta velocità vuol dire che anche sul dritto potenzialmente poteva avere un buon spunto e se combinando queste cose si riusciva ad inserire un setup che garantiva nelle curve un buon ingresso una buona velocità all'apex e un buono spunto in uscita allora si era trovato l'assetto vincente secondo me anche per aiutare ad avere un confronto maggiore in più anche perché come dicevi tu proprio per creare più bagarre secondo me su una pista così tecnica mettere la speed trap in fondo a un dritto non era particolarmente rilevante metterla invece in un punto dove bisogna saper sfruttare bene la scia col setup allora lì può avere un altro valore ti faccio una domanda la chiede Daniele come sarebbe stata l'ultima chicane con queste vetture nel traguardo forse intende l'ultima curva che c'era all'epoca con queste vetture guarda io se posso rispondere e poi vai tu Matteo io credo che queste vetture ci sarebbe risolto ben poco perché alla fine se guardiamo al 2005-2006 con quelle vetture ma anche con quelle degli inizi del 2000 si faceva difficoltà a superare io ricordo che Alonso non riusciva a superare Schumacher nel 2006 e nel 2005 ruoli invertiti Schumacher non riusciva a passare Alonso e non si riusciva con le vetture e figurati con queste che sono molto più larghe quindi credo che l'ultima canna il fatto che è stata tolta pare per motivi di sicurezza perché c'era poco spazio e quindi per evitare credo che si verificassero incidenti anche poi all'interno della corsia perché se ricordi bene nel 2006 la corsia box era subito a ridosso in frenata quindi era molto pericoloso credo che alla fine sia un vantaggio quindi meglio tenere meglio eliminare l'ultima curva meglio un layout più pulito fino alla prima curva sì esatto che avere un'ultima curva così io penso sia un giusto compromesso sei d'accordo con questa cosa secondo me è un giusto compromesso con quello che hai detto tu e entrambe le cose sia per creare un po' più di come si può dire di bagarre in un certo senso per creare quasi più una zona compatta dove le vetture devono frenare in modo aggressivo perché poi ci sono due curve fondamentalmente adesso ad angolo retto quindi devi molto frenare quindi chi sfrutta bene la scia si può portare subito sotto e avvicinare forte anche perché da lì a poco dopo c'è il detection zone quindi è importantissimo uscire bene in questo caso la curva 13-14 quindi le prime se non sbaglio del terzo settore per poi sfruttare già da lì bene la scia e in questo caso mi ricollego a quello che dicevo prima con la speed trap che secondo me ha valore messa in quel punto penso anche ovviamente in questione di sicurezza senza dubbio e anche perché comunque era considerata ad oggi una pista particolarmente difficile su cui superare e il fattore sorpassi è quello che rende emozionante questo sport e già dall'introduzione del DRS già le componenti ibride tutto tutto è sempre per avere maggiore potenza poter avere carichi aerodinamici maggiori per affrontare curve sempre più tecniche ad alta velocità ma al contempo la Formula 1 come qualsiasi altro sport di motori vive di sorpassi vince chi sorpassa di più o chi è più veloce anche a stare davanti e non farsi sorpassare quindi secondo me anche per una questione di spettacolo secondo me è in ottica con l'idea di Liberty Media e con quello che sarà il proseguo nei prossimi anni di creare una Formula 1 che riesce sempre più a portare a sé molti più appassionati e spettacolarizzare le gare è sicuramente la parte più difficile al contempo ma più efficace per raggiungere questo fine ma adesso ti chiedo quindi Immola è promossa Immola promossa ti direi sì ti direi sì perché la gara non mi è dispiaciuta il circuito anche è particolare è sempre bello perché poi da noi appassionati è bello poter vedere anche per curiosità il confronto come lo affrontano vetture di diversa tipologia magari un layout comune affrontato da vetture di diversa categoria tipologia e magari anche due ruote cioè così quindi è bello è sicuramente emozionante da vedere però devo dire una cosa oggi il fattore spettacolo l'hanno fatto anche molto gli eventi che si sono verificati quindi la foratura di Verstappen il problema al teraio di Bottas quindi non possiamo dire che è tutto merito del layout in sé mentre merito secondo me del layout della pista sono sorpassi tipo quello di Perez ai danni di Albon se non sbaglio prima che si girasse perché il poter creare zone o comunque inventarsi sorpassi in punti che sembrano impensabili è lì sta tanto nella bravura del pilota quanto nella conformazione del layout del circuito e secondo me il vedere sorpassi di quel genere anche all'esterno quello di Leclerc su circuiti così storici secondo me è qualcosa di è un valore aggiunto quindi secondo me sì Daniele ci dice che promuove Imola come Portimao ma volevo chiaramente sottolineare un aspetto calendario 2021 che non è stato diciamo confermato al 100% ma è stata fatta una bozza prevede l'introduzione del Vietnam e del Gran Premio d'Olanda quindi in casa di Verstappen Monza 5 settembre questo per dire un po' gli appuntamenti particolari però c'è l'introduzione quasi mi sfuggiva il Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jedda che pare che sia un circuito semicittadino ma io voglio dire la mia pandemia ecco io credo che non sia una parola sfogati tanto siamo solo io e te no dicevo non credo che ci sia l'ultima parola per il circuito come Imola e Portimao oppure come perché metti caso che ci sia una terza ondata di pandemia ovviamente speriamo di no e oppure che all'improvviso ci siano problemi legati all'Australia oppure legati al Gran Premio della Cina o il Vietnam quindi nella zona del Medio Oriente io credo che Portimao Imola il Mugello il Nubugring possano rientrare di nuovo nel calendario quindi non ho detto l'ultima parola per il 2021 ma io sono convinto di un'altra cosa che il nostro Stefano comunicali farà di tutto farà di tutto per portare la Formula 1 ad Imola almeno per provarci non nel 2021 se dovesse essere questo il campionato dovesse essere rispettato ma quantomeno nel 2022 io credo che l'Italia ha bisogno di avere il Gran Premio di Imola così come abbiamo riavuto lo Spilger quindi l'Austria così come abbiamo riavuto l'Olanda così come abbiamo riavuto tanti altri circuiti io credo che Imola sia non dico l'essenza della Formula 1 ma quasi perché è un circuito entusiasmante è bellissimo è storico che è entrato nella storia non solo perché Ayrton Senna e Grazienberg hanno perso la vita cioè non solo per questo aspetto negativo ma anche perché io mi sono realmente emozionato nel vedere i piloti in particolare in qualifica attraversare la Tosa le acque minerali la Rivazza è un circuito di alti tempi e credo che questa Formula 1 ha bisogno di avere campionati come quelli di altri tempi oltre quindi ad avere diciamo gare quindi più entusiasmanti con forze un po' forze più in equilibrio forze in campo di avere circuiti che richiamano quelli di un tempo non vuole essere una critica a Herman Tilke ma perché abbiamo già detto in altre puntate che è importante che tutto il mondo può sospitare la Formula 1 ma almeno che ci sia un'alternanza cioè un giusto compromesso come dicevamo altre volte tra circuiti moderni e circuiti storici oppure l'alternanza tra anno e anno cioè un anno permette al Vietram di disputare il suo gran premio a uno successivo passi quindi consente ma questo è un problema a livello di investimenti perché costruire ex novo un circuito e poi doverlo ammortizzare un anno sì e l'altro no non è facile da gestire perché allora c'è il rischio che tu andresti a frenare magari l'incentivo a altri potenziali stati di ospitare un tracciato che secondo lui i 23 gare sono un po' tante anche fisicamente piloti e squadre sì è vero ma è anche vero che se all'epoca ne facevano anche di più Jim Clark se non sbaglio ne faceva faceva tre campionati contemporaneamente quindi piloti d'altri tempi però bisogna vedere credo che un'altra cosa credo che sia importante ecco il fatto che adesso pare che vogliono ridurre il numero di giorni in pista vedi Imola io promuovo il format che vi ho visto quest'anno a Imola quindi un'ora e mezza di prove poi un'ora di qualifiche poi la gara perché così fa il momento allo spettacolo le vetture non arrivano così preparate con i compiti di fatti secondo me lo si può fare magari sai dove su quei circuiti che rievocano la storia allora in un certo senso tu potresti dare magari il giorno in più io metterei forse magari il giorno in più in questi circuiti perché ovviamente lo studio serve però arrivi ad avere uno studio che non sarà mai approfondito come un circuito che conosci da diversi anni che hai corso per un'era intera come può essere Monza Barcellona e altri quindi in un giorno in più alla fine non è che cambia tanto e quindi avere un giorno in più su un circuito storico che porta audience da quel punto di vista ci può stare mentre su altri circuiti magari cittadini particolari ma non storici o comunque in quel caso a rotazione per far entrare più tappe a turno si può mettere dentro solo il sabato e la domenica nel calendario potrebbe essere un'opzione sì siamo quasi a corte di argomenti siamo quasi a corte di argomenti ormai l'ultimo argomento capitolo Ferrari Leclerc sembrava quasi agguantare il podio a un certo punto della gara forse è un po' discutibile la strategia di non cambiare non mettere le soft ma forse hanno copiato la strategia di Albon e quindi anche di Ricciardo un vero peccato perché poi Leclerc ha perso le speranze si è distanziato troppo Kiatto si è infilato quasi come un kamikaze e quindi è riuscito a sfruttare al meglio la sua gomma soft che sicuramente non era paragonabile in termini di usura a quella di di Leclerc secondo me qui è un'ingenuità gomma soft che non sì ti direi Giuseppe tra l'altro una gomma soft che non è riuscita cioè una gomma media rispetto alla soft che è entrata subito in temperatura forse Ferrari credeva di 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 quindi ha preferito non cambiarla sì secondo me può essere quello ma secondo me l'elemento che bisogna un po' analizzare non è tanto il quinto posto alla luce di quello che succede cioè il quinto posto nudo e crudo in sé ma il fatto che non so se la Ferrari oggi avrebbe avuto il passo per tenere questo quinto posto perché Verstappen era davanti non lo so devo essere sincero anche rivedendo il tabellone dei piloti che sono rimasti fuori Albon non poteva averne per andarlo a riprendere qualora avesse guidato in modo pulito e avesse retto bene la pressione perché comunque era lì a un paio di posizioni dietro poi c'era Ocon che vedendo anche Ricciardo cosa ha fatto aveva le carte in tavola per fare aveva la vettura almeno per fare una buona prestazione una risalita quindi non lo so oggi la prestazione Ferrari è un po' da prendere con le pinze ci sta ci sta che dopo giornate di crescita consistente ci sia un potenziale rallentamento l'Eclerc si lamentava di una macchina troppo sottosterzante quindi non riusciva a inserirla bene nelle curve e anche questo ci può stare per il fatto che non si conosce appieno un circuito storico su cui non si gira da tanto e quindi magari aver avuto qui un giorno in più poteva essere migliore se in termini di prestazione anche per rimescolare ancora di più perché ripetiamo Red Bull è andata forte con un giorno in meno magari con un giorno in più riusciva ancora ad andare più forte e qui sfato il mito in questo caso del Mercedes con tre giorni crea la macchina invincibile sì e no perché Verstappen riesce anche lui a dare sempre il meglio dalla sua Red Bull più di quanto non ci si possa aspettare da questa vettura a volte come fa a volte l'Eclerc con la Ferrari quindi lì davvero ci si gioca il valore del pilota nella vettura secondo me oggi è un po' da prendere con le pinze visto le prestazioni quindi della Ferrari ad Imola e visto anche quello che abbiamo visto a Portimaia visto che è andata di fatto che a Portimaia erano un po' più forti prossimo Gran Premio tutti a 15 novembre visto che Ferrari parlo abbia terminato i sviluppi di questa vettura e quindi non porti altri aggiornamenti probabilmente porterà tutti i regolamenti aridinamici al Gran Premio di Turchia visto che è una pista che comunque è vero che non si corre da parecchio ma comunque si conosce le squadre conoscono l'high out tu pensi che Ferrari possa tornare quella di Portimao? Sì? È una bella incognita è un'incognita perché le vetture sono cambiate dall'ultima volta che hanno corso qui sicuramente avranno più dati da confrontare sulla carta ovviamente e al simulatore per vedere quali sono le aspettative che possono puntare ad ambire in questa tappa della Turchia comunque io metto le mani avanti perché una giornata positiva non può significare sicuramente un cambio repentino di trend come può essere stata ad esempio la giornata positiva della vittoria di Monza dell'Alfa Tauri come il primo podio della Renault ma un seguirsi di eventi può dare una linea un trend più chiaro gli ultimi tre weekend della Ferrari sono stati buoni dal punto di vista dello sviluppo questo un po' meno io metto le mani avanti a dire che il prossimo potrà essere negativo o sullo stesso standard perché la pista è diversa i piloti appunto la conoscono sicuramente meglio molti di loro ci hanno già corso quindi non lo so è una bella incognita bisogna vedere anche poi appunto come questo pacchetto aerodinamico che sembra essere appunto come dicevi tu arrivato al suo step conclusivo dal punto di vista dello sviluppo lavorerà è una questione anche di capire bene tappa dopo tappa come configurare al meglio la monoposto ci sono giornate in cui anche con una vettura efficientissima lo si riesce a far bene ci sono giornate in cui è già più difficile vedevamo se non sbaglio appunto proprio a Portimau Hamilton il venerdì a non trovarsi con la Mercedes faceva fatica e poi invece si è ritrovata a vincere quindi queste vetture sono molto complesse e ci si gioca davvero il tutto sul filo di millesimi quindi l'eccellenza va ricercata e ci vuole il tempo ci vuole tempo e non bisogna come capita ormai troppo spresso puntare il dito contro per un solo risultato ecco quindi oggi Ferrari sottotono se si vuol dire così però non per questo vuol dire che il suo sviluppo e il progresso che stanno facendo non sia subito già di nuovo in crisi ecco a maggior ragione si dice che il loro sviluppo per quest'anno sembra essere terminato quindi ultimo argomento della della serata volevo centrare l'attenzione su il team radio di Sebastiano Petro non so se l'hai ascoltato che come tutti abbiamo avuto il problema box un pit stop durato 13 secondi per un errore nel fissaggio dell'anteriore destra e della posteriore sinistra alla fine della gara ha detto a Riccardo Adami alcun gine di pista ragazzi non preoccupati del pit stop grazie a Claudio che dovrebbe essere un un meccanico grazie per un sacco di anni sei un gentilissimo e davvero ancora una volta ecco emerge il grande cuore di Sebastiano Petro certo lui è legato alla Ferrari da grande lui è legato alla Ferrari perché nonostante la difficoltà ecco perché poteva arrivare esatto il suo grande rimpianto è quello di non aver vinto con la Ferrari perché lui ci credeva tanto e ci ha sempre creduto forse meno negli ultimi anni per i problemi che ha avuto proprio quasi prima quasi più con se stesso una perda di fiducia in se stesso e poi che si è più tramutato in una vettura quest'anno davvero complicata da gestire però si vede si vede che è un pilota che che ci mette sempre il cuore ed è legato al cavallino e questa è la prova e poi ovviamente un pit stop complicato può succedere non dovrebbe perché siamo abituati ovviamente a dei meccanici fantastici come vediamo in Red Bull che se non sbaglio settimana nel weekend scorso hanno fatto ancora il nuovo record del pit stop più veloce intorno all'1.7 quindi battendosi ancora anche loro continuano a migliorarsi d'altra parte i problemi di fissaggio possono capitare mi ricordo io uno dei primi articoli che feci quando entrai in redazione era relativo al problema al box da parte di Bottas quindi Mercedes per la pistola dei freni che era stata danneggiata da Hamilton quindi anche lì con la frenesia può succedere di tutto è una gara nella gara quella i box e quindi è un errore che può succedere fa parte del gioco nulla da dire è il bello è il bello anche delle corse uno che sta vincendo sta dominando la gara e poi magari i box ha problemi e fa parte del gioco e del rischio e rende bello questo sport potenzialmente quindi ci sta nulla da dire se non appunto mostra tutto l'attaccamento al cavallino ed è una cosa bella non scontata dopo tutte le vicissitudini che ha passato soprattutto negli ultimi anni sì 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 siamo in chiusura io volevo ringraziare salutare Daniele e Francesco che sono stati molto attivi alla volta di oggi per le domande che abbiamo fatto ci salutiamo un guardamento a tappeto hot lap su hot lap nel scrivere commenti oggi ci salutiamo con la speranza di rivedere in futuro il circuito del Santerno di nuovo nel candato di Formula 1 si chiude la parentesi italiana di queste tre tappe disputati sul suolo italiano con quello di oggi nota amara ecco forse l'unica nota negativa oltre all'episodio in gara della Virtua Safety Car è anche quella dei tifosi perché solo a settimana quasi inoltrata si è scoperto il da farsi certo però è un po' influenzato anche dal trend che è molto mutevole dall'oggi al domani quindi anche qui non è facile prendere queste decisioni e non siamo di sicuro noi i più idonei a dire se è stato giusto o sbagliato assolutamente pare però che l'imborso debba avvenire per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti e ecco questa è in parte se vogliamo una nota positiva non so se hai visto le foto di tutti i tifosi della Ferrari e non che si allampicavano come un tempo sulle reti a bordo pista o sulle alture delle colline per vedere le vetture dall'alto per vedere i piloti sfrecciare e quindi so che poi c'è stata anche un'ordinanza del sindaco che ha deciso di creare una sorta di zona russa nelle strade intorno all'autodromo per impedire potenziali assembramenti proprio per il grande amore che c'è sia per le vetture di Formula 1 in terra italiana sia per questi circuiti storici mi sembra giusto alla luce un po' anche di tutte le vicende quotidiane ci può stare della correttezza per il trend che stiamo vivendo della pandemia però è stata in parte un'immagine di cuore romantica per questi tifosi che sono impossibili vedevo gente che si arampicava sui camion è un'immagine sì particolare visto il momento però molto molto romantica siamo tornati un po' ai tempi addietro ecco a tanti anni fa quindi con questo io ti saluto caro Matteo è stato un piacere essere qua a farsi una bella chiacchierata nel post gara con questa volta meno persone in studio ma tanta partecipazione nella chat quindi nelle domande che ci sono state fatte e ne vogliamo sempre di più perché è ancora più bello anche voi ci aiutate da casa come tutti noi del resto a sviscerare molto meglio i vari dubbi o anche curiosità che possono magari a noi sfuggire quindi siete anche voi ascoltatori davvero fondamentali per per creare proprio un bel dialogo così e affrontare molto in modo più approfondito tutti i vari temi che riguardano il weekend di gara quindi assolutamente super propositivi oggi tra l'altro Daniele scrive ultima domanda leggiamola non cercare italiani in Ferrari io credo è difficile vedere un italiano in Ferrari sì è difficile a meno che Ferrari non metta Giovinazzi al posto di Science in futuro è difficile è vero ed è difficile anche soprattutto alla luce del fatto che per arrivare in Formula 1 serve avere alle spalle molto spesso purtroppo al giorno d'oggi patrimoni finanziari non indifferenti e non è così facile averli in Italia ecco perché il motorsport è tanto amato ma è molto ancora difficile ovviamente da approcciare e anche in Italia ovviamente come nel resto del mondo vale la stessa cosa però Leclerc per me Leclerc dice appunto Daniele Leclerc per me è un po' italiano sicuramente e questo è anche parte sicuramente del successo a livello di audience che ha il Monegasco appunto tra noi appassionati del cavallino quindi senza saluto Daniele saluto te Matteo e invito tutti i nostri ascoltatori a seguirci anche nella prossima puntata il dopo GP del Gran Premio della Turchia una buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima ciao ciao a tutti ragazzi